Se stai cercando un appartamento a un piano comodo, con sala, cucina separata, bagno finestrato, due belle camere grandi, garage, posto auto nella corte e cantina, beh, rimani con me perché non te ne pentirai. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Siamo in Borgo, anzi, in Corso Europa, quindi nel cuore del Borgo e qui si trova questo appartamento al piano rialzato, 7 gradini in tutto per entrare in casa, in una palazzina di sole 8 unità con cantina e garage. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita!